Sporti per un'attività importante per Badova? Sì, è un assessorato molto importante, sono già stata avvisata che sarà abbastanza dura, ma stanno avanti, la fatica l'ho sempre sopportata, quindi da piccola cerchiamo di impegnarci per il bene della comunità. Hai già qualche idea sugli obiettivi per i ragazzi, per gli anziani, per un'attività diffusa? Sì, ma lo sport deve essere completo dall'età giovanile fino alla tarda età, sicché verrà sviluppato ampiamente. La battuta con calcio fardo, la vuole ripetire? Ma ho seguito poco la vicenda, adesso vedremo un attimino, si so che ci sono anche queste indagini, quindi io spero anche, guardando più alla squadra che non alla società nel complesso, gli auguro di ritornare velocemente in serie di insieme. L'impegno del Comune, adesso vedremo anche con il Sindaco come affronteremo le cose.